Tre cose sono certe nella vita, le tasse, la morte e Max Verstappen che vince per dispersione le gare in questo periodo storico. Inizia infatti il Mondiale 2024 di Formula 1 con una inedita gara del sabato in Bahrain, ricordo che in Bahrain in Anabasite si corre per motivi religiosi al sabato e non alla domenica, ebbene non cambiano le condizioni. Max Verstappen vince con eoli di vantaggio sulla concorrenza, doppiando praticamente mezzo schieramento e di fatto già chiudendo il Mondiale alla prima gara, perché se c'erano dei dubbi o delle attese sul fatto che questo Mondiale 2024 potesse essere all'altezza di un Mondiale combattuto, ebbene con la prima gara abbiamo avuto una netta indicazione. L'olandese vince con 20 e passa secondi di vantaggio. Su Sergio Perez, terzo invece un ottimo, Carlos Sainz, in una gara del Bahrain che ha regalato degli spunti interessanti nei primi giri e poi ha scemato fino alla definizione delle posizioni che vedremo poi nella prima classifica della stagione. Un gran premio quello del Bahrain che appunto dava delle curiosità in merito a come potevano presentarsi queste vetture nuove diciamo nella nuova stagione nell'anno di transizione 2024, ebbene i valori non sono cambiati. Red Bull nettamente una spanna superiore a tutti, Ferrari netta seconda forza del Mondiale ed è questo un passo in avanti rispetto allo scorso anno a parità di gare, Aston Martin che dal podio di Fernando Alonso scende come quinta forza in campo e per il resto la top 10 la completano le due Mercedes e le due McLaren con alterne fortune. Una gara che ha vissuto in realtà di momenti belli, in partenza dopo ovviamente tanti duelli, soprattutto quello tra Sainz e Leclerc, Sainz nettamente meglio di Leclerc, in questa gara ha provato ad inserirsi nel duello anche Russell che poi per un errore in curva 10 alla fine dovrà cedere la sua quarta posizione a vantaggio di Leclerc che però ha avuto una gara decisamente molto calvario. Molto meglio invece Carlos Sainz superiore invece a tutti gli altri Max Verstappen che di fatto non perde da quando a Singapore vinse Carlos Sainz la gara che regalò appunto all'unica scuderia non Red Bull la vittoria nel Mondiale 2023. All'epoca fu Carlos Sainz e invece da lì in poi Verstappen continuò a vincere senza sé e senza ma e fa così anche in questo incipit in Bahrain. Veramente un qualcosa di allucinante, il pilota olandese ovviamente non ha ancora fame di sconfitte, vuole continuare a rullare la gente e hissarsi sempre di più verso dei record che saranno difficilmente battibili. Io francamente non mi ricordo il record di maggiori vittorie consecutive di un singolo pilota, se non sbaglio fu Sebastian Vettel ma appunto potrei sbagliarmi i tipi della sempre Red Bull ma appunto tra fine stagione 2013. Qui nel 2024 abbiamo invece una manifestazione di forza veramente veramente impressionante. Verstappen aveva sì preso la pole ma con un margine risicato rispetto agli avversari tranne nell'ultimo giro dove ha dato due decimi al secondo classificato ovvero Charles Leclerc. Ebbene in gara Verstappen vince con 20 secondi di vantaggio su Sergio Perez che rimonta dalla quinta posizione e finisce in piazza d'onore e via via tutti gli altri con appunto i piloti che prendono i distacchi. Vengono doppiati praticamente gli ultimi sei piloti in griglia e tanto per cambiare suona Helt Wilhelmus, l'inno nazionale olandese per Max Verstappen che fa il quinto. Grande slam in carriera quindi pole position, giro veloce in gara in testa da inizio alla fine e ovviamente vittoria per il netto campione del mondo già nel 2024. Dico probabilmente un'affermazione forte ma ovviamente la realtà di fatti è questa perché se Verstappen vince la prima gara con 20 secondi di vantaggio su Sergio Perez che comunque ha fatto un'ottima gara dal mio punto di vista evidentemente il mondiale è già finito al 2 di marzo e si lotta probabilmente per la seconda posizione. In questo caso in realtà non si è lottato per la seconda posizione ma fatto per la terza al netto che appunto Sergio Perez per un attimo ha avuto il brivido di Carlos Sainz che gli era un attimo nelle terga poi ovviamente il pit stop numero 2 ha favorito la Red Bull con le gomme soft, Sainz invece si è contato della terza posizione ma parliamo appunto di Carlos Sainz che secondo me lo dico subito è il driver del giorno di questa gara del Bahrain, Darla Verstappen oramai è scontato diamolo invece a chi effettivamente ha fugato delle mie domande in prestagione. Nel video dove ho parlato di Hamilton in Ferrari mi ero posto la seguente domanda ma Carlos Sainz che di fatto è stato epurato dalla Ferrari ancora prima di cominciare questa stagione con che manità correrà? Ebbene correrà con una mentalità vincente o comunque una mentalità molto concreta e molto sul pezzo. Gara secondo me straordinaria di Carlos Sainz che dalla quinta posizione alla meglio di Leclerc in pista con un buon sorpasso al netto che Leclerc ha avuto una gara decisamente complicata ma comunque Sainz aveva anche a un certo punto il passo per andare a prendere Perez si è fermato a un secondo e mezzo poco meno comunque grande gara secondo me di Carlos Sainz che certifica come la Ferrari ufficialmente sia la seconda forza di questo mondiale. Quarto è Leclerc che ha avuto un problemino evidentemente tra primo e secondo stint ha avuto un ulteriore problema il Monegasco per la guidabilità della macchina ha lamentato prima del suo apparso su Russell effettivamente dei problemi ai freni e proprio alla guidabilità di questa SF24 comunque rispetto a dove era la Ferrari un anno fa in questa gara in Bahrain è decisamente un altro andare e quindi appunto ripetiamo Ferrari come seconda forza del mondiale che vuol dire che si può puntare al podio bisogna vedere se nella gara canonica si punterà a un solo gradino cioè il terzo oppure in caso di avvenimenti eccezionali si possa puntare anche agli altri due gradini al netto che appunto questa Red Bull e soprattutto questo Verstappen sembrano ingiocabili esattamente come nel 2023 ma appunto lo sapevamo già l'anno di stagione 2024 è di transizione e quindi è anche logico aspettarsi che i valori non siano così dissimili allo scorso anno. In quinta posizione troviamo George Russell che in realtà butta via la quarta posizione con un grave errore in curva 10 figlio ancora una volta che Russell non sa gestire al meglio la pressione quando deve effettivamente difendere una posizione importante Sesto è Aldo Norris con una McLaren che tutto sommato non ha fatto una cattiva prestazione ma appunto la McLaren ha una buona base ed è la fine del 2023 certo in queste condizioni era difficile secondo me fare di più Settimo è Lewis Hamilton che è una mezza delusione perché se Russell è arrivato in quinta posizione Hamilton poteva essere lì a ridosso ma appunto tra Russell e Hamilton c'è sempre stata una grandissima differenza in questo contesto in Bahrain e Hamilton in questo caso ha preso la paga dal suo più giovane connazionale Ottavo è Oscar Piastri segno appunto della McLaren molto solida la quinta forza invece del mondiale almeno in questa prima gara è la Stone Martin che appunto completa la top 10 con nona posizione per Fernando Alonso e decimo per quanto riguarda Lance Stroll quindi tre punti in totale per la Stone Martin che è la scuderia più calata da un anno all'altro perché ricordiamoci l'anno scorso Fernando Alonso arrivò a podio e adesso è precipitato in nona posizione Stroll invece si attesta sempre in quel midfield di piloti al netto della mia opinione personale comunque in ogni caso è una gara di Bahrain che introduce un campionato 2024 che probabilmente sarà sulla falsa riga del 2023 mi aspetto tante vetture della Red Bull mi auguro che non siano 24 su 24 l'anno scorso siamo arrivati a tutte le gare 20 tranne una mi auguro che ci siano condizioni particolari che possono far saltare il banco almeno per regalarsi delle gare assolutamente interessanti questa del Bahrain onestamente non è stata una gara memorabile anzi una delle probabilmente più indimenticabili al contrario della stagione gare abbastanza monotone dopo soprattutto il primo stint di pit stop per il resto tanta poca carne al fuoco la delusione del giorno comunque la voglio dare lo stesso ed è un pilota o meglio una scuderia che è arrivata a 13esima e 14esima ed è il team Vicarb o Alfa Tauri o Minardi o Toro Rosso chiamatela come ne avete voglia perché Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda finiscono a 13esimo e 14esimo ora il team Vicarb aveva evidentemente delle aspettative perché si diceva è una seconda Red Bull poteva fare un grande salto in avanti era nell'anonimato nella passata stagione in posizioni anche più in vere conte di questa ha fatto sì un salto in avanti ma ci si aspettava che probabilmente il team Vicarb fosse lì a giocarsela con l'asto Martin e quindi fare un salto più considerevole in classifica non c'è stato la squadra di Faenza ha dovuto di fatto lottare con la Haas con la Sauber di Joe Guagnò che ha fatto una grande gara per i suoi standard con scuderie che sulla carta sarebbero inferiori delusione del giorno il team Vicarb vediamo come si comporterà quella che a tutti gli effetti sembra il team Red Bull B ma con Piloti secondo me che non dovrebbero stare lì ma l'ho già detto nel video di presentazione di questa stagione per appunto un mondiale di Formula 1 che arriverà a correre nuovamente di sabato nuovamente in terra araba si correrà tra esattamente una settimana quindi sabato 9 marzo a Jeddah, Arabia Saudita nel cittadino del Corniche a Jeddah ci sarà anche la Formula 2 che anche qui ha aperto i battenti e parliamo allora delle categorie propedeutiche per completare il primo racing podcast della stagione a quattro ruote e c'è una doppietta molto importante per il campionato del mondo perché uno dei favoriti al titolo F2 ovvero Zey Maloney vince gara sprint e gara vera 36 punti quindi di fatto quasi punteggio pieno ed è il primo leader del mondiale di questo campionato Formula 2 suona per due volte in plenty and in time of noon l'inno delle isole Barbados sono le prime due vittorie in carriera per il Barbadiano che da quest'anno è passato allo Sauber Junior Team e attenzione perché il team Sauber ha anche nella sua academy Theo Pursher piatta di riserva della Formula 1 e quindi se Bottas e Joe dovrebbero fare male attenzione perché ci sono due grandi piloti giovani che scalpitano l'uno è Pursher l'altro è Maloney che in gara sprint vince dall'ottava posizione e con un giro veloce straordinario domina e appunto si aggiudica il primo gran premio della stagione in seconda posizione abbiamo Jack Crawford pilota statunitense ex viove della Red Bull e terzo uno che in Red Bull c'è ancora ovvero José María Martí pilota spagnolo che comunque è uno dei pretendenti alle prime cinque posizioni di questo mondiale Formula 2 arriva in seconda posizione in gara Fitcher e quindi sono punti importanti anche per Martí il podio di gara 2 lo completa Paul Aron pilota estone che si diceva veramente un gran bene io l'ho pronosticato come un grande pilota a tenere d'occhio già in questa stagione e infatti l'estone non tradisce quinto in gara 1 terzo in gara 2 Paul Aron ricordo che come Andrea Antonelli è un pilota opzionato della Mercedes dello junior team parliamo però di Andrea Antonelli che comunque fa un descritto weekend perché quattro dicesimo in gara 1 ci può anche stare decimo in gara 2 invece è un ottimo risultato perché comunque batte due volte il suo campagna di squadra il più quotato Oliver Berman junior del team Haas Antonelli è opzionato della Mercedes si diceva un gran bene di lui e si dice un gran bene tuttora di Antonelli il team Prema però ha avuto delle difficoltà enormi in questo GP di Sakir che storicamente non è adatto al team Prema ma appunto aver già fatto un punto importante nella gara che conta quindi la feature è importante per costruirsi dell'esperienza e comunque far vedere che il talento il ragazzo di Bologna ce l'ha quindi è un discreto weekend per Antonelli certo non possiamo pretendere che elenca il mondiale di forma 2 al primo anno ricordiamo che Antonelli ha saltato una categoria è passato in F2 mondiale dall'F3 europea ed è un'altra cosa quindi è un buonissimo weekend per l'Italia in Formula 2 ed è ottimo anche in Formula 3 dove sia stata però un'altra doppietta ma di una nazione in questo caso perché se in Formula 2 abbiamo avuto due vittorie barbadiane abbiamo due vittorie britanniche nel primo Gran Premio della stagione che anche qui è corso in Bahrain prima vittoria in assoluto all'esordio per Arvin Limblad pilota britannico della Red Bull Junior Team che comunque completa una grande sprint race in seconda posizione abbiamo Lorenz Van Hoopen pilota del team Art Grand Prix olandese all'esordio assoluto anche lui è un podio comunque molto nobile perché ha comprato un nome italiano Leonardo Fornaroli si confermano dei nostri alfieri molto importanti del motorsport in generale tra F2 e F3 tra Mini Antonelli e Fornaroli si è messi veramente tanto bene Fornaroli comunque completa una grandissima gara sprint in terza posizione Fornaroli confermato dal team Trident in gara 2 invece vince un altro inglese Luke Browning quindi per due volte suona God Save the King Luke Browning è uno dei favoriti a vincere questo mondiale Formula 3 che comunque vede dei tanti piloti interessanti in pochissimi punti in seconda posizione abbiamo Christian Mansell pilota australiano anche lui del team Art Grand Prix che comunque sfrutta la posizione avanzata in gara di partenza e terzo invece è Tim Tramnitz pilota anche lui della Red Bull Junior Team che comunque è in seconda posizione assoluta con un quinto e un terzo posto per un mondiale Formula 3 che appunto vede però tantissime ovviamente opportunità di sorpassi contro sorpassi cambiamenti in classifica vediamo che appunto in pochissimi punti abbiamo 6-7 piloti addirittura fino a Gabriele Mini potrebbero tutti essere considerati in lotta per il mondiale e sono piloti che comunque meritano di stare lì Gabriele Mini che comunque fa una prestazione solida in Bahrain con meno acuti magari rispetto all'anno scorso dove fece un Apple Position ma comunque il pilota del team prima e soprattutto dell'Alpine Junior Team fa degli ottimi settimi e sesti posti in gara 1 e in gara 2 a differenza della Formula 2 la Formula 3 correrà in Australia ad Albert Park dove si rivedrà anche la Formula 2 tutti tra una settimana insieme alla classe regina la Formula 1 che ancora una volta certifica che il dominatore Max Verstappen vincerà anche il mondiale 2024 lo diciamo al 2 di marzo una delle cose più scontate degli ultimi 20 anni di motorsport vedremo se ci saranno proprio delle gare interessanti da commentare nei passaggi della stagione e nei vari recent podcast fatevi ricordare che avete pensato ovviamente di questa gara in Bahrain se avete trovato interessante avete trovato nelle aspettative o vi aspettavate qualcosa di più a qualche pilota presente qui in questa griglia il saluto da parte di Matthew Dorgard ci vediamo al prossimo video